Rieccoci qui in una nuova fantastica puntata di Diva Podcast con Maria Sofia, quindi sigla e a tra poco. Rieccoci qui, oggi sono in questa puntata, in questo luogo misterioso in realtà perché siamo a casa di qualcuno che tra un po' entrerà nel nostro... Vi sveleremo. Eh, vi sveleremo. Sono qui in questa puntata con Maria Sofia che ci racconterà della sua esperienza alla Seafredi Academy, luogo diciamo in cui ti ho mandata io e sono anche stata accusata di essere la colpevole. Di questo delitto a quanto pare per tutta Italia. Esatto, di avere diciamo manipolato una ragazza appena 18enne per entrare nel mondo dell'hard come se a me fregasse qualcosa, come se io ci guadagnassi qualcosa se tu fai la pornoattrice. Questa cosa non si è capito, non si è capito bene il mio guadagno in ciò, però insomma io sono stata accusata di questo. Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire al riguardo? Che secondo me in questo contesto si cerca sempre un capro espiatorio perché già a 16 anni quando io ho iniziato a organizzare dirette con Alex Mucci che tra l'altro saluto... Salutiamo. Sì, per parlare di sex work e dicevo che perché diciamo il sentore di questo mio interesse per il mondo del porno già si sentiva allora già lì dei messaggi in DM dove dicevano eh ma lei ti sta portando su una brutta strada... Mi erano arrivati, quindi sì, quindi il capro espiatorio in generale si cerca. Poi io vorrei specificare una cosa, giusto per puro gossip, giusto per puro spiegare i meccanismi che ci sono dietro le nostre collaborazioni, la nostra corrispondenza sia lavorativa sia in amicizia. Ma raga, sono stata io quella a contattare Alicia per dirle facciamo un video a tema sex work in più con dei contenuti su OF. Esatto, sei stata tu a chiedermi di collaborare su OF, quindi effettivamente sì, io non ti ho mai chiesto una collaborazione, sei stata tu a chiedermelo. Infatti su un altro social che non nominiamo io ho affermato che sono stata io in realtà a manipolare la diva del tubo. Sì no, possiamo nominare qua gli altri social. Un po' a dire, un po' a dire, anche perché diciamo sì, su TikTok è stata detta questa cosa, ovviamente ironicamente, però davvero, cioè perché era comunque più difficile far fare video di attivismo a me che far fare il porno a te. Esatto, che io ciocola lo sono sempre stata. Io sono sempre stata non contro l'attivismo, però è una cosa estremamente lontana da me, cioè capito, estremamente lontana perché a me non me ne fotte un cazzo di questi argomenti, però tu mi hai manipolata a fare video di attivismo. in cui mi sono anche un pochino messa in gioco perché appunto io non, cioè sono proprio l'ultima persona al mondo che può fare attivismo, però con te l'ho fatto. Infatti ho subito anche qualche critica che accetto che ci sta, perché effettivamente queste le accetto nel senso la diva del tubo che fa attivismo è qualcosa di quasi paradossale, anche se comunque ovviamente non entro in temi che non mi riguardano. Perché infatti secondo me andrebbe specificata una cosa, che va bene che la diva si è sempre fatta conoscere per portare il non etico, per portare lo scandalo e l'immoralità. Però c'è anche da dire che lo scandalo e l'immoralità purtroppo all'interno del mondo in cui viviamo è il sex work. Quindi il fatto che lei ne abbia parlato positivamente perché in effetti è un po' il suo mondo, nonostante lei non si definisca una sex worker, però rientra nella sfera del BDSM eccetera eccetera. E quindi la sua esistenza è una testimonianza che fa vedere che questa cosa è giusta, che questa cosa non ha nulla di male. Da questo punto di vista ci sta che tu lo faccia, l'attivismo della diva qua è morale. Comunque ci tengo a dire che viene ripetuto io non mi ritengo sex worker, no non è che io non mi ritengo perché comunque anche io faccio parte di questo mondo. Non mi piace la parola, cioè non mi piace la parola sex worker, vedi mi fa così la nostra ospite. Ospite, poi siamo noi ospite a casa, vabbè, non mi piace perché è qualcosa che, cioè se una persona è ignorante, cioè tutte, maggior parte, cioè se io dico a mia nonna faccio sex working lei pensa che faccio la escort, non che ci sia qualcosa di male. Però non la rappresenta. Non lo faccio, cioè è quello, quindi chiaramente la persona che non sa, pensa a sex working, eh questa è una escort, è una pornoattrice, quando invece ci sono tante altre declinazioni come il BDSM. Che poi può essere, allora il BDSM è peggio a livello morale del porno. Esatto. Perché quello che si fa nel BDSM, nel fetish, nella money slavery è qualcosa di molto più forte moralmente, è molto più forte del semplice porno. E soprattutto sovverte quei ruoli che sono standardizzati, no? Sì, 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 quindi non voglio dire, non sono, non voglio discriminare chi fa sesso, però una persona che come me non vuole essere associata al fare sesso, ma non perché ci sia qualcosa di male, ma perché a me il sesso fa schifo. Certo. E l'idea che si pensi questo a me dà fastidio perché non mi piace farlo, cioè proprio mi dà fastidio. Certo, e per sottolineare questo... No, niente, quindi è solo per questo che non mi piace, anche se io comunque sono di fatto una sex worker, non mi piace questo tipo di parola. Io ho sempre utilizzato il termine modella o attrice fetish. Infatti in America il nostro lavoro, cioè ci chiamano proprio fetish model. Che figata, questa roba non lo sapevo. Esatto, che sono più che altro quelle, non le mistress, ma quelle come me che performano la mistress, che è diverso, no? Che poi tu avevi sempre, cioè quando ci siamo conosciute hai detto questa cosa che mi è rimasta impressa in una maniera assurda. Hai fatto io non sono una mistress, ma io domino nella vita. Sì, esatto, io sono una persona nella vita dominante, però non faccio la mistress, perché la mistress è un lavoro diverso dal mio. Certamente. La mistress non è vendere foto e video. Posso farlo in maniera virtuale, certo. Io sono più nel campo money mistress, proprio devo chiamarmi mistress più money mistress. Cioè dominazione finanziaria, come ben si sa. Certamente, poi per fare delle specifiche che riguardano sempre questo campo potremmo pure aggiungere che per quanto riguarda il mondo del BDSM noi siamo ancora più scomode, come dicevamo poc'anzi, perché noi andiamo a ribaltare quello che è forse anche l'ideale un po' del porno mainstream, in cui l'uomo domina e la donna viene sottomessa. Esatto, ma poi a me non piace neanche la comunità BDSM che ci ultracritica, perché noi rendiamo tutto trash. Ma è bello! Però io non mi piace proprio, diciamo, questo ambiente, infatti non frequento assolutamente. Trovo che siano, la cosa paradossale è che ci sono persone moraliste anche nel BDSM. E posso collegarmi a questo fatto? Vero, vero. Cioè, tu che comunque fai parte proprio lo puoi dire, no? Tra poco però diremo noi chi sei, però. Piano piano facciamo salire l'hype. Riguardo questo, se tu non ti senti rappresentata dalla comunità BDSM, io posso dirti che molte volte non mi sento rappresentata dalla comunità femminista. Che dovrebbe essere, se intersezionale, che è l'ondata di femminismo migliore, pro al sex work. Ma che però, in questi ultimi mesi in cui io mi sono distinta appunto per la mia attività di sensibilizzazione, per quanto concerne il lavoro sessuale, veramente mi ha distrutta. Cioè, io ho visto storie di gente che mi nominava appena, che diceva questa ragazza di 18 anni appunto che si sta facendo manipolare, che vende il suo corpo, tutto Twitter, mi ha attaccata. Quando veramente non c'è nulla di più femminista del sex work, quando si parla di rivendicazione del corpo. Certo, infatti, perché poi ho sentito anche persone su TikTok, a parte che Twitch, cioè voglio dire una cosa, Twitch è un ambiente di un tossico incredibile. TikTok non è così comunque. Dici? Non è così. Ma perché tu segui la gente di Twitch su TikTok, capito? Però Twitch secondo me è proprio un ambiente veramente toxic e tu comunque gran parte del pubblico l'hai presa da lì. E' assurdo vedere ragazzini, giovani, ragazzi giovani che dovrebbero essere aperti mentalmente e che invece giudicano e sono maschilisti. Sì. E ho sentito dire cose del tipo che tu saresti incoerente, ipocrita perché fare porno, cioè il porno è l'oggettificazione della donna, ma in che senso? Cioè il porno è semplicemente un'attrice che lavora. Esatto. Quindi perché dovrebbe, cioè ok che la scena può essere oggettificazione della donna. Ma anche dell'uomo a questo punto. E' un lavoro, cioè nel senso è una scena, è una finzione, cioè è quello che tra l'altro comunemente si fa anche a letto, no? Cioè chiaramente noi nel BDSM spaziamo molto di più, nel porno si va a rappresentare più un rapporto classico in cui di solito è l'uomo dominante. Cioè ma che c'è di male che sia l'uomo dominante a letto? Esatto, cioè nel senso... Chiariamo infatti questo concetto, l'oggettificazione è rendere la donna, un uomo perché purtroppo chiunque può essere oggettificato, non rispettabile ai propri occhi solo perché viene utilizzato per il suo corpo, solo perché noi lo vediamo come appunto una mera merce per soddisfare i nostri bisogni sessuali. Quindi si crea un'opposizione tra sessualità e un'opposizione tra intelligenza e rispettabilità della persona. Però a livello pratico io posso vedere un'attrice porno o un attore porno eccitarmi di brutto bestialmente sui suoi contenuti e poi guardarlo in faccia, se mai lo dovessi incontrare, però non credo che gente del genere che ci critica avrà mai l'onore di incontrarci perché non ce l'avrà mai. E poi rispettarci, parlarci come delle persone. Quindi la deumanizzazione è una cosa che sta nei vostri occhi, la disumanizzazione voglio dire. Se voi imparaste a rispettarci e allo stesso tempo continuaste normalmente a eccitarvi guardando i nostri contenuti non ci sarebbero problemi, quindi questo è un lavoro che dovete fare voi, non è una nostra responsabilità. Assolutamente, assolutamente, assolutamente no. È chiaro, chiaro. Ma invece, com'è andata? Dato che, allora, io ti ho mandato alla Rocco Academy, però poi per una serie di questioni non ho potuto accompagnarti. Certo. E com'è andata? Allora, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, cioè una veramente delle esperienze più belle della mia vita. Perché tra l'altro, le persone che io so, so che sei stata benissimo e che hai fatto amicizia con tutti, però hanno fatto alcuni TikTok... Con Malena che mi ignora? Sì. In cui tu vieni ignorata, vieni isolata, che poi non eri isolata, semplicemente eri tra le nuvole, oppure Malena che ti ignora, che poi non è vero, perché io ho visto proprio quel pezzo in diretta di Malena che ti ignora. E non è vero, perché vi siete anche scambiati i numeri, questo io l'ho visto... Ma con Malena dovevamo fare una diretta con Grimbaud, tra l'altro? Eh, infatti. Solo che poi lei non ha potuto per robe sue, dobbiamo riorganizzare, ma a parte questo, pure tipo i TikTok super super... Con le musiche trissime, però facevano... Cioè qui veramente chi li ha fatti... Geniale, bravi. Ti avete fatto morire da ridere. Sì, vabbè, ma tu hai visto che pure Ryanair ha messo un meme su Gmail... Sì, ma guarda che tu sei ovunque, sei il fenomeno del momento. Che sto sentando qua. Però vedi che io sono proprio la tua erede in fatto di Trash, tu la regina e io la princess. Sì, veramente. Cioè veramente ti cedo la corona del Trash, lo scettro del Trash. Perché Ryanair... No, lo so, è questo il problema. A me viene normale alternare i discorsoni sui massimi sistemi e poi dire live da Grimbaud. Eh, guarda, io dalla mia mistress mi sono fatta mettere delle dita al culo perché lei mi ha punita, perché io me le sono fatte mettere da un'altra persona con cui dovevo fare delle collab, la prossima mi piscia pure in bocca. No, lo so, lo so, lo so. Non è normale per me. Sì, lo so. Lo so spiegare. Solo che le persone chiaramente vedono questo tuo lato contrapposto all'attivismo che dovrebbe essere serio, no? E quindi è per quello che ti prendono per il culo. Che poi questa è l'ennesima cazzata perché il punto dell'attivismo è abbattere tutti i dress code, è abbattere tutti i costumi per cui tu devi porti in una maniera rispettabile per farti credere. Questa è una fallaccia argomentativa chiamata argomento ma dominem, cioè che tu non dai credibilità a qualcosa che una persona dice semplicemente perché è quella persona a dirlo. Quindi svaluti il tuo interlocutore piuttosto che l'argomento che propone. Ma poi c'è anche un'altra lotta che dovrebbe esserci, soprattutto perché la maggior parte del content portato online dagli uomini, noi che parliamo di sesso, è che delle donne o delle persone socializzate come tali normalmente possano dire oggi mi sono fatta sfondare, oggi ho sfondato uno, quello che ti pare. E far ridere, non essere criticate con quei commentini su TikTok che mi arrivano con non avete idea di la mia faccia in questo momento. Cioè veramente parliamo tanto di sex positive e poi questo è il livello. Anche il mio essere indecorosa, il mio essere trash ha una forma di attivismo se questi non se ne fossero apporti. Sì è vero, è vero, è vero. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere e qui arriverà il momento. Io vengo taggata in dei post su TikTok perché tu parli della tua mistress. E pensano che sia io la mistress, la tua mistress, no? Giustamente anche perché abbiamo fatto dei contenuti insieme. Te lo mi sottometti, guardate, è bello. Sì, chiaramente. Però non sono io la tua mistress. E chi è? Non sono io, nel senso anche perché io e te abbiamo una bella amicizia. Abbiamo fatto contenuti in cui tu mi hai fatto da schiava. Ripetiamo, guardate, li trovate sui nostri rispettivi siti. Sì, esatto. Abbiamo fatto dei contenuti in cui c'è stata dominazione, però erano scenici naturalmente. se nella vita non sei la mia schiava, per ora poi. Trash. Tu immagini un reality, però tipo blog, giorno 7 in cui Maria Sofia mi fa da schiava. Maria Sofia, vami a preparare la colazione. Ovviamente nel caso in cui dovessimo finire in un reality insieme, per forza mi devi fare la schiava. Per favore. Scusa, a meno che non ci sia Anfi. Ti prego. No, se non c'è Anfi devi farmi tu da schiava, se no come facciamo? Sì, sai che è cotto, ti prego. Sì, sì, sì. Però, 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 al di là di questo, che comunque per noi sarà sempre qualcosa di scenico. Certo. Nella realtà? Nella realtà siamo amiche. Ma c'è un'altra persona che invece è la tua mistress e non è qualcosa che abbiamo fatto apposta, è un rapporto che è nato. Sempre grazie a te, però. Grazie a me, genuinamente, tra voi due, io non me lo sarei mai aspettato, ne immaginato. Anzi, pensavo che lei mi mandasse a quel paese perché le porto la ragazzina così, che rompe le palle, perché poi gliene hai combinate, poverina. Lei era arrabbiatissima. Lo vogliamo dire, però in un TikTok. Sì, lo diremmo in un TikTok. E io penso a che figura che ho fatto a portarti a lei, cioè nel senso lei comunque è una donna di un certo tipo. Di un certo livello. Le ho portato sta scapestrata. E invece tra di voi è nato un amore. Un amore di dominazione. E quindi presentiamola. Vogliamo entrare, mistress Lily Dupont? Eccola qua. E per, ovviamente, riportiamo i ruoli. Siamo ospiti a casa sua di Lili, perché stasera ci sarà un party qua, un party privato. Come hai fatto sulla storia di Instagram. Esatto. Che ti devo dire. Per pochi eletti. Maria Sofia, tieni la testa bassa, perché se no sei spezzata. E lei che mi spezza. Ecco, perfetto. Allora. Bene, bene, bene. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi presento, sono mistress Lily Dupont. E lei è la mia schiavetta, Maria Sofia. E tra l'altro tu sei anche il piede della famosa foto. Non è mio. Per tutti pensavo fosse mio. Però vedete che il mio no, perché è il tatuaggio. Io non ho tatuaggi. E quindi è il tuo piede, nel senso, quel video è stato fatto anche con me, però ha girato il tuo piede. Esatto. E come è nato tra voi questo? Cioè, tu come hai fatto? Perché te la sei presa come schiava? Allora, me la sono presa perché è brat. Perché è una brat di merda. Perché a me le sfide piacciono. E lei proprio mi tira fuori il peggio che c'è in me per punirla. Per punirla. Infatti ricordiamo che la mia mistress di natura, una sadica, vero? Tu di natura sei una sadica di più a categoria. Sì, 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 assolutamente sì, guarda. E poi volevo dire una cosa. Hai fatto un discorso molto bello su BDSM e soprattutto, scusami, e soprattutto sulle sex worker. Anch'io, nonostante faccio BDSM, non mi reputo una sex worker. Perché al di là di tutto faccio prodomming e va bene. Però, ad esempio, noi mistress non ci facciamo toccare. Per cui l'atto sessuale non c'è, non ci sarà mai con uno schiavo. Di conseguenza, io non posso definirmi una sex worker. Mi posso definire una mistress, una padrona, una dominante. Ma mai al mondo una sex worker. È una parola che anche a me dà molto fastidio. Perché, come dicevi tu, al di là dell'associazione... Perdona, io non sono abituata ai riflettori. Al di là dell'associazione che si possa fare, voglio dire, con le escort che è tanto di cappello, perché è assolutamente tutto normale, io non mi definisco una sex worker. Anche perché all'estero sappiamo benissimo che quando una persona si rivolge a una escort sa dove andare, quando si rivolge a una mistress sa dove andare. Per cui, anche se all'estero vengono definite sex worker, c'è una biforcazione per quanto riguarda la categoria. Che in Italia non esiste. Esatto. Quindi questa è la cosa importante, che noi siamo indietro di tanto tempo. E ti volevo fare una domanda. La faccio a te perché la risposta me la puoi dare tu. Se è stata criticata la questione dell'età, della differenza di età tra noi e te. No, devo rispondere io, stai zitta perché come al solito ti metti in mezzo. Voglio che risponda lei per spiegare che il ruolo della mistress in realtà ha un senso che la mistress sia più grande. Cioè, capito, vorrei che spiegassi questo. Perché la mistress alla mia età viene definita veramente una domina o una padrona? Per il semplice fatto che ha alle spalle un'esperienza di vita e soprattutto un'esperienza basata sui giochi reali che uno fa. Che una ragazzina di 30 anni raramente, perché ci sono quelle brave, quindi non so, facendo delle discriminazioni, raramente hanno. Anche perché quando noi facciamo un gioco, all'interno del gioco tu vai a scatenare, ad aprire delle emozioni che, sinceramente, se non hai un bagaglio di esperienza personale alle spalle, assolutamente non puoi riuscire ad entrare in contatto, anche se non sono una psicologa, anche se non ho studiato, eccetera, eccetera. Però la mia esperienza di vita di tutti i giorni mi porta ad avere delle sinergie, delle energie con delle persone che comunque una ragazzina di 30 anni non può avere perché di base gli manca l'esperienza di vita vissuta, quindi il suo bagaglio. Quindi la differenza di età è veramente relativa, ma... Vedi che è un abbraccio? Sì, mi correnti sempre! Quindi è veramente relativa e poi anche perché ultimamente, e questo lo dico proprio con tutto il cuore, stanno venendo fuori tante bimbe minchia che pensano di avere un frustino in mano e di riuscire a fare le mistre solo perché sanno magari gesticolare con la frussa o con un vlog. E si pensano dominanti, nella realtà la dominazione è tutta un'altra cosa, cioè non parte dall'oggetto, ma parte dalla persona. Infatti, tra l'altro ricordiamo, spieghiamo anche a tutti quei che a me dicono, quando avrai 50 anni così non ti si cagherà più nessuno, invece... Ma è la cosa più bella la nostra età, allora scusami, la nostra età è ancora più bella perché io mi sento rinata a 50 anni e lo dico apertamente, io mi sento rinata perché comunque sto passando una fase molto bella nella mia vita perché so apprezzare molto di più il valore di una giornata rispetto a prima che magari la bevevo un po' capseggiando. Oggi do valore a tutto e tutto per me fa esperienza e soprattutto i giovani sono quelli che a me insegnano, perché non essendo della mia generazione io imparo da loro. Quindi è un connubio assolutamente perfetto. Padrona, posso un attimo prendere il microfono? Poi inoltre, se dovessi un po' rispondere a tutta questa vicenda dal mio punto di vista, io vorrei dire una roba, ovvero che sono stanca della gente che mi infantilizza, perché lei lo sa benissimo perché ormai viviamo assieme, tra l'altro io mi trasferirò anche da lei a inizio agosto, quindi figuratevi... Sarà la mia slave 24-7. Esattamente, quindi vabbè, cioè Lili lo sa, io mi sto impegnando ogni giorno da quando ho 14 anni con la mia pagina di attivismo, davvero per mangiarmi l'Italia. E la cosa che mi fa ridere è che la gente mi descrive come una bimba malleata da interessi di persone che la vogliono sfruttare quando non si rendono conto che con tutte le loro critiche hanno fatto il mio gioco, perché sono andata alla Siffredi Academy per occupare quello spazio e per parlare come volevo io di porno, di sex work, di consenso e tutte quelle cose che in live vedete, perché io i dibattiti li ho tenuti e come, e io direi che questa è abbastanza la prova che ho la maturità intellettiva per avere un rapporto così serio con una donna di 55 anni. E lei è la manipolatrice fondamentalmente. No, no, ma è vero, è vero. E lei è la manipolatrice. E lei che, in realtà lei è molto dominante. Sì, lei domina dal basso, lei domina dal basso. La sua, ecco perché la chiamo Brat, tengo io. Lei domina dal basso ed è la cosa assolutamente che mi fa incazzare di più, perché con i suoi modi infantili, come dicono gli altri, con il suo modo di essere, nella realtà è quella che mi provoca in continuazione perché cerca di mettermi sotto, però grazie all'esperienza, come potete vedere, non ce la fa e quindi nascono. Infatti ti ho vista incazzatissima con lei. Sì, 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 lei mi fa proprio rambiare. Però con me non riesce, cioè tra me e lei non c'è questa cosa qui, siamo come delle amiche, no? Ma voi siete, come hai detto tu una volta, sorelle. Sì, perché infatti abbiamo detto, cioè lei è la tua bambina. Sì, per me è la sorellina minore, ecco. In più poi io vorrei chiedere una cosa sia a Lili sia a Alicia, domanda secca. Visto che questi si lamentano tanto del discorso dell'età, che io quindi non potrei avere questo rapporto così intimo con voi per via dei miei 18 anni, ma io li dimostro davvero, dimostro la mia età? Allora, a livello fisico anche di meno, ma a livello mentale assolutamente no. Hai una cultura, una preparazione e soprattutto un'esperienza, anche se sei così giovane, che sei bella tosta, ragazza. Allora, io secondo me, lei non è che sembra, perché tutti dicono sembra più piccola fisicamente, ma secondo me è solo perché non si trucca. Perché tu sei abituata a vederle ai 18 anni, già a 14 anni, sono vestite, ma io pure quando avevo 14 anni, con i tacchi, con le minigonne, con il rossetto, l'ombretto, è ovvio che sembrava, cioè io sembravo a 16 anni, sembravo che ne avessi 25, ma per il look, per il trucco, lei è naturale, non c'è nessuna naturale alla sua età, per quello che lei sembra meno, ma non perché sembra meno, perché le altre sembrano più grandi per via del trucco, parrucco, tacchi, abitini, capito? Per me è per quello, non è per quello. Sì, 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 ma è proprio questa la sua particolarità, è proprio questa la sua particolarità, il fatto che è diversa dalle 18 anni, di conseguenza dimostra veramente la sua età, perché comunque non è falsa, cioè la cosa bella è che lei è così come la vedete, è pura, è semplice, e la sua bellezza è proprio questa, perché è pura sia intellettualmente che fisicamente. Questo è quello che rappresenta per me Maria Sofia. E poi è bellissima. Io l'amo. Io l'amo. Infatti un giorno vorrei che truccarla e metterla come una bambolina, perché lei è bellissima. Farsi dire di essere bellissima dalla diva del tubo, vuol dire proprio che abbiamo raggiunto dei livelli esorbitanti, ma a parte questo, cioè, io ripeto questo aspetto perché vorrei che fosse estremamente chiaro, anche se poi continuerete a vedermi come la bimba ingenua, e questo farà solamente comodo la mia narrazione. Oltre ad essermi presa all'Italia, alla Rocco Academy, tra le vostre prese in giro, che poi mi sono solamente, ripeto, ritornate utili. Ricordo che questo è anche stato un modo incredibile per pubblicizzare il mio porno di attivismo. Quindi voglio vedere quanto sono stata manipolata nel sex work quando dall'inizio di tutto sapevo come sarebbero andate le cose, mi ero studiata un piano per arrivare a spaccare con questo progetto qui. Progetto che gireremo in questi giorni. Infatti siamo qui a Milano per questo. Vi faremo sapere. Io vorrei concludere con una domanda delicata, però c'è una situazione che si è creata che però si è risolta bene, ovvero i tuoi genitori e tuo papà. Allora, io devo dire che io avevo, io avevo fatto il podcast in cui dicevo che tuo papà mi voleva denunciare perché di fatto lui aveva, scritto, che mi denunciava perché l'avevo criticato dicendo che, insomma, secondo me era sbagliato quello che lui diceva sui social. Però poi c'è stato un chiarimento e adesso siamo tutti amiconi. E domani verrà... Domani sera verranno a cena a casa nostra, a casa nostra, perché ormai questa è diventata una comunità. No, ma domani andiamo al ristorante vegano? Io direi che facciamo un aperitivo qua e poi ci spostiamo di là perché è meglio... Io ho accettato il ristorante vegano solo perché ci sono i tuoi genitori e li voglio conoscere. Ecco, vedi? Cioè, solo per i tuoi genitori accetto il ristorante vegano? Ecco, ecco. Quindi sarà la diva del tubo con la Maria Sofia, con la mistress, che oddio, e i genitori di Maria Sofia, top. Che adesso hanno accettato tutto. Quindi quello che secondo me non è che i suoi genitori fossero contrari a quello che lei voleva fare. Erano preoccupati alla fine e quindi evidentemente suo papà si è spaventato, ha voluto proteggerla e quindi questo ha creato un po' di confusione. Però tutto si è risolto allora. Ma ci sta però, ci sta, insomma, da parte sua un po' di preoccupazione. Certo, ci sta. Ma poi siamo persone grandi, intelligenti e soprattutto consenzienti in tutto. Cioè ci si parla, l'educazione si chiarisce e tutto finisce per il meglio. L'unica cosa che vorrei dire, poi ovviamente concludiamo perché la diva così ha detto, io ascolto la mia regina. Ecco, mistress e regina, abbiamo stabilito nuovamente i ruoli. Sì, nel senso, ci sta non essere d'accordo nel momento in cui questa differenza di opinioni sta nel... Ma poi Maria Sofia, non temi che un giorno ti ritroverai in difficoltà per via della tua scelta lavorativa. E anche lì, ripeto, bambina manipolabile, un cazzo, perché io mi sono già calcolata tutto. Poi io posso sbagliarmi, però ecco, con la mia visibilità, con tutto quello che sto facendo, anche dal punto di vista della sensibilizzazione, è molto difficile, tramite il sex work, è molto difficile che questa mia scelta professionale un giorno mi lasci in mezzo alla strada. Quindi pure quello l'ho ponderato, ma vabbè. Cioè, a me ha dato fastidio delle dichiarazioni di mio padre, il fatto che lui abbia detto delle cose anche pesanti da Cruciani, che sono pubbliche, ovvero, io non so se lei è una robin hood, oppure se lo sta facendo solo per hype. Quando io dono un sacco di soldi sia ai rifugi per animali, sia a persone che hanno bisogno del mio supporto. Per esempio è venuta una mia amicizia per girare dei contenuti, io alla sua fidanzata ho donato una cifra di denaro perché questa sua fidanzata deve fare un percorso di affermazione di genere e la medicalizzazione costa tanti soldi. Cioè, nel senso, sono state proprio dette delle cose brutte su di me, dal sangue del mio sangue, solamente per sminuirmi, solamente per piegare il mio spirito e dissuadermi dal continuare su questo percorso. Peccato che non ci è riuscito però. E quindi si è rassegnato il papà Luca. E poi dite che non ha la testa, ragazzi. Dopo questo discorso dite ancora che sia la bambina o quella incosciente. No, no, infatti, infatti, infatti. No, assolutamente. Però comunque, al di là di questo, comunque i tuoi genitori capiranno che alla fine è una scelta giusta, la tua, proprio perché la stai seguendo con il cuore. E con la rete. Cioè, non è la ragazzina che dice faccio sex work per guadagnarmi soldi, la sta veramente facendo con l'anima. Sì, sì, sì. Quindi è giusto. Come hai detto prima, lei è pura. Esatto. E lei è vera. Esatto. Questa è Maria Sofia. Lei è vera. Esatto. E quindi niente, noi adesso ci ritiriamo per la cena perché stasera sarà... Fammi vedere, no, ti devi fare una cosa per me, te lo devo chiedere. Fai l'espressione che hai fatto nell'Instagram, nel video, quando hai detto, voi non sapete... E non me la ricordo. No, vabbè, peccato perché era bellissima, mi hai fatto una faccia che ho detto io l'avo. Voi non sapete. Top. No, veramente non sanno quello che accadrà stasera tra queste mure. E chi c'è? Ma la prossima volta lo svelerete, giusto? Chi c'è stasera? Se lo vuole dire. Se lo volete dire. Non è se lui lo vuole dire. Se lui lo vuole dire. Allora, diciamo che è una persona famosa. Molto. Molto. E un'opinionista? Sì. Giornalista? Non diciamo proprio esatto. E dai, sbiamo un po', creiamo un po' di hype, come dicono di solito. Cosa vogliamo dire? Vabbè, allora, diciamo chi c'è delle tue colleghe. C'è Vera Ryder, che in realtà più che essere una mia collega è la tua schiava, l'altra. Mia sorella. Mia sorella. Mia sorellina. Poi c'è, che tra l'altro lei è capricorno, quindi sorella maggiore, io che vengo dopo acquario. Te le sei scelte proprio alla grandissima. Poi c'è Eva Generosi, che è la ragazza che è arrivata a seconda all'Academy, con il suo fidanzato. Poi sempre dell'Academy, c'è Serena, sempre con il suo fidanzato. E poi c'è, vabbè, Faticinora. Faticinora, con Master Kaiser Sose. Io non conosco nessuno, tranne l'invitato speciale. No, c'è anche Anfi. Ma Anfi non conta, Anfi non conta, dai. Va bene, va bene. Eh, va bene. Allora, niente, noi chiudiamo qui. Grazie per avermi ospitato. Grazie a te che mi ospiti a casa tua. È sempre aperta. Ormai è casa nostra. Esatto. Vi vedrete delle belle in questa casa. Esatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast.